Le comunità del West Pokot in Kenya vivono di agricoltura e pastorizia e da diversi anni stanno affrontando gli effetti del cambiamento climatico, siccità e inondazioni che stanno mettendo a repentaglio la loro sopravvivenza. Questa situazione ha portato ad un'insufficienza alimentare cronica, malnutrizione diffusa e ad un aumento delle malattie legate alla carenza di igiene. Attualmente in West Pokot il 50% della popolazione soffre di malnutrizione. Ad occuparsi del trasporto delle taniche d'acqua, che pesano 20 kg, sono unicamente le donne. La distanza media dal primo punto di rifornimento dell'acqua è di 5 km. Possono essere necessarie fino a 3 ore al giorno per il trasporto dell'acqua. Grazie. 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 Grazie.